più tardi bro è è è è è è è I can't remember the names though. When I create a... I'll let you guys know. Arigato. Thank you very much, guys. Arigato! Thank you! Arigato! Ma che gai da... Oh? I'm just a bologna KFC. It's a very strong picker. Arigato! Thank you! Very much do. Arigato! Ba 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 ba... A che gai? Arigato! It looks like a copyright... Like a free copyright music? ile Grazie a tutti! 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 Come non ricordi i suoni? A me serve un'otto Same? Same? Understandable Preferisco sta gara sicuramente rispetto a quella precedente Porca proia, almeno qui si può guidare I miei eventi dove non dobbiamo essere assieme almeno Beh, più che altro voglio farmi un'idea invece che fare trial and error dopo Non pensi, almeno è più appropriato Vuol dire, a burning room se si maneggia bene effettivamente Mi soddisfa, mi soddisfa Giustamente dovranno compensare mettendo la merda più assoluta Alla no? Mi pare... Mi pare Mi pare Vero? Bello eh? Non è. No Mi pare Molto Inizio Non è 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 Chissà se sono più thick quelle del vanity o più fine Oddio questa l'ho fatta male frenata Sembrano le palle fatte da lui e tu Sì, sì, mi ricordo qualcosa del gioco 2.46 Chissà quanto è più uguale 122.5, nice Pro 2003 Quasi quasi non la rifaccio Cioè sono soddisfatto ma non la rifaccio Ciao Qualc'altro piccolo ritocco qua e là e là e qua e là Ben fatto Bicolo Bicolo Cosa 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info E' state uniti Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info L'avevo fatta meglio prima sta curva Mannaggia loro 50 Vabbè no, non muore questa sullo sterrato, wow La hot rod D-d-d-d-d-d edition Un secondo ho migliorato, buono E io mi chiedo se questo giro era molto buono a vestirmi un po' di quello Per quello che vuoi dire di me Io spererei di sì ma non ci conto molto ecco Mi sto distratto Il platino è vicino a un milione e tre Eh ma che cazzo fa la gente Eh sì quando vuoi ma devo settare No secondo me forse che gli eventi di cosola Gli eventi del Quegli appunti Sono col punteggio nerfato Per l'appunto per la modifica che avevano fatto E quindi C'è il big stones C'è il basing Esatto Il secondo perché devo settare adesso le auto Visto che ho terminato con la cupone Cerchiamo Cerchiamo la Eclipse Marchio Meme Bishi Sti cazzo Questo è il panico classico Cioè giustamente nel giorno in cui escono le notizie Ci sono pure gli spider Ma non diciamo cazzate Ehm Allora Fammi un attimino vedere Qual è Cribbio è Il setup Per far driftare sto cesso Dov'è Eclipse G6 Ehm Quindi questo va qui Questo va qui Ehm Susp Comp Front A3 3 Fin Poi Ehm 8 9 Quindi 9 8 La campanatura sta a 8 con la sotto Ehm L'equilibrio frenata è Qua Ok Sto mettendo il memino Ehm Alleluia Sì Sì Aste Ganno Ehm 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 Che Ehm 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 Sì, uno taglia il traguardo e l'altro drifta, ci dobbiamo alternare Va bene Lo so che sono individuali, per quello ti so No, è che non ho idea di dove si mette a farmare i punteggi qua Quello è Dovrei guardare il video di Acora al volo, forse Ma Traffic Jam l'avevamo fatto o no l'altra volta, non mi ricordo Allora non ho controllato il punto di farlo Dio Cristo, sti testi del... Ma dove, perché hanno messo i testi davanti? Come? Mi sparavo se era bianco e nero, scusa Ma che hitbox è, dai! Ma per favore, mi ha rallentato con tutto che non l'ho manco sfiorata Leli Dice che in questo è il punto di farming alla fine, tipo Beh, sugo Sì, vero, effettivamente ero giù Se c'è una fontana... Se c'è una fontana, allora è quello Ok, questa qua l'ho riconosciuta dal punto di arrivo Sì, ho sbinnato Sì, ho sbinnato Perché stai avendo problemi a farla driftare, sta cosa? Ah, col che setup hai messo? Oddio, madonna Ancora Sì, ho sbinnato Sì, ho sbinnato Sì, ho sbinnato Grazie, ho sbinnato Sono Eh, io cercavo di dirlo, tu sei partito Appunti? No, io ho detto che era il coso appunti Come vuoi, boomer? Tu dici l'evento che sto a mettere o che era appunti l'evento? Non ho capito cosa non avrei detto Tu non mi hai detto che l'evento era, non so che pizzo era Ma come c'era il sistema di auto? Che faccio, taglio? Ahhhh Sì, sì Sì, ma 51.000 mi sa che è la miseria No no no, sono buono, sono buono, grazie Grazie, ragazzi Sì, ma non è una cosa che non è un problema Buono Grazie Grazie Oh no, oh no 147.000 Ora capisco perché sta Perché sta a 1.3 il punteggio L'hanno nerfato pesantemente Non ti ho chiesto se volevi cambiare auto Riavviato e basta Che famo? Sì ma non hai capito quello che intendevo io Ok Allora Allora scappo io Ma quella curva la prendo sempre male Il destino proprio che vada così Ah scusa passa 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 Effettivamente non ci stavo pensando Ti ho toccato 750 punti Che saranno sicuramente preziosi Per le meme Wow sta contando la formazione da qua giù Ma porco dio sono morto C'è un punto in cui corrisponde Sia un sole accecante Sia un gruppo di macchine Che puoi evitare solo in un punto E mi triggera un casino Non hai preso sto cartellone qui? Non hai preso sto cartellone qui? Non hai preso seems Giorga Hai bisogno di punti tu? Dovevi spiegare al gioco che hai bisogno di punti Deve been Tornato Sia un mass mare piccami intanto. Cazzo io poco fa non ho fatto il 4000 speciali e vabbè. Same. Madonna. Marona. Non dicevo di stare esagerando un pochino le ma... No. 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 Nooo. Ah stavo per tagliare. wow ho distrutto una cassa punti e non mi ha contato manco ah ok l'ha contata con 5 secondi di ritardo understandable io mi sa che devo tagliare a breve perché siamo a 10 secondi non voglio rischiare ecco 10 secondi 6.69 secondi se vuoi riavviare problema non ce n'è quindi è certo che è migliorato ora devo settarmi la fiesta che nutre con piacere anzi no credo di averla settata per cazzo l'ultima volta non abbiamo usato una fiesta per qualcosa se non sbaglio no addio ancora dimite di velocità cazzo io ero convinto che avevo finito dopo questa devo spararmi allora ford fiesta eccola qua si ok ho già il setup buono per l'evento possiamo andare c'è un protoxi del cazzo ma non me ne frega mio null null e tu ce l'hai pronta la tua auto per rallycross district dash ok il mister zurkon che è sempre sul pezzo però lo posso capire wow forse dovrei customizzarla la l'edrea della fiesta perchè mi sembra un nemino è vero è vero è vero è vero è vero è vero wow non possiamo fare più oh sì è vero molto ok grazie 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 oh questo è ok questo è quello con l'exploat che si può raggiungere dall'altro lato della mappa quindi devo ops l'hai visto l'hai visto dove mi ha dato l'impatto si quella ok questo è legittimo questo è più che legittimo però quello precedente onestamente meno oddio ma lo dovresti sapere che va così va sempre così ok allora vediamo se mi ricordo come si faceva devo passare tra gli alberi qui muovermi a passare se non mi fare spawnare ok dovrei esserci mo devo seguire il cane il cane devo seguire nooo che è sto copyright cazzo è sto copyright chi è chi è non lo so se nooo ho sbagliato cazzo dobbiamo riavviare mi ha fatto distrarre sta merda prima ahhh oh che bello i bot che commentano camnnz punto camnnz cristo oddio Non se ne può più Con sti botti di merda Due canz Ma porca madò Niente io sta zona Sta zona non la digerisco E poi dopo dovrei rifare Per il Mimino Ma se ne ponteggio non Assolutamente nemmeno ce ne sarà bisogno La curva è qui Quindi era Destra Sinistra Destra E poi c'era un altro qui Vaffanculo Però sti setup non sono estremamente driftosi Cosa cazzo ha fatto Alcord? Cioè non sta driftando come me l'aspetterei Devo forzarlo io e drift Bicca e e e Bicca e e Bicca e e Bicca e e Non lo so perché Ora mi piace Io mi piace Bicca e e Bicca e e Cosa cazzo ha fatto Io weiss Intanto questo film Non è una merda Il problema è proprio il mio problema minore al momento non è la notte il mio problema maggiore non è la notte ma il fatto che non sto riuscendo a driftare per mie mi stai battendo con tutto che sto a driftare lo so c'è cristo madonna per favore per favore è il momento di driftare anche per me niente o drift non ne sta contando nemmeno per il cazzo zero proprio no no questo qua mi sembra che si deve fare normalmente allora vorrà dire che vorrà dire min no 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 io non ce ne sarei da 30 mila Dopo lo possiamo fare in formazione questo Se da così tanti punti Farlo legit invece che driftare Perché non hai velocità per fare il drift Purtroppo Non mi va di cambiare auto Dove un altro star sottottenuto No lo faccio legittimo Che cazzo mi metto a cambiare auto se tu hai fatto 154 mila Scusa Fanno legittimo e buonanotte 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 Lo so pure io Eh serie le gare Johnny Ah madonna la così brutta Wow Wow Quello era un mino totale devo dire No il cartello non ho lisciato Fuck L'abbiamo mancata con una precisione Che è come poche cose al mondo Proprio Cioè La scritta formazione non mi fa vedere dove cazzo sta andando Eh 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 Ah madonna No ma fa cagare in generale Quindi Un taxi mi ha intercettato e ho perso i punti del drift Stiamo Stiamo decollando in una maniera bellissima Oh no non mi dì hai perso lo speciale Oh no non mi dì hai perso lo speciale Pure io posso dire la stessa cosa Ha colpito il bordo del del container Quindi si Pure io Sto colpendo qualsiasi cosa Mi sto rompendo il cazzo Oh no non mi dì Si giro a giro lo faccio quello visuale cofano sto coso Mi sto rompendo i coglioni Mamma mia Non è possi Oh no Oh no C'è un altro percorso lì dietro Dov'è lì dietro? Un quadrato? Ah ok si tu fai Ah Devo vedere Oh ma no Oh ma no E' abbai quello Oddio arrovesciano tutto se conviene Perché credo che il salto dia più punti se lo prendi con una velocità più alta Vediamo Se ho ragione Minchia se ti sei salvato No ok salto da meno punti Salto da meno punti Vero vero Io ho migliorato 149.2 però non mi convince Non mi convince dal punto di vista Eh ma se ho messo lo visuale cofano Se lo visuale cofano non dovrebbe Non dovrebbe creare problemi Tecnicamente meno Go Oh madonna Non me sto abituato con la cazzo di visuale Non è facile Non riesci a calcolarti la hitbox più che altro What you feel Esatto a meme Mi manca il cartellone davanti Fuck Oh madonna Oh madonna Oh madonna Oh madonna Oh madonna Sì cazzo Ah ripigliati fiesta vennera No ok 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 Oh Ok 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 Ecco ma questo è un muro questa è benzina donna quella cloud potrebbe farla molto menosa Dio ho preso lo stesso albero di prima cazzo già se no perde seguito oh pure a me dovevo la corsia opposta di merda beh per fortuna avevo la sita visuale in prima persona e non mi crea troppi problemi oh lo spin a terra ho fatto ah già al contrario si deve fare quindi si prenderebbe idealmente per un pelo ecco è mille punti easy questi sono effettivamente nonno fuori dai confino fuori dai confino non mi dare le meme buono vuoi tagliare comunque tu che io messello un pochino si perchè se arriva a 50.000 dovrei essere sistemato 9 secondi 9 secondi ma adesso si dovrei aver fatto almeno 50.000 no 110.8 però però devo vedere quello singolare vediamo 49.7 però vabbè ovvi 3000 non 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 sei il solo che non vuole giocare a sto gioco ahahahahah no vabbè quella dell'atlantic devo rifarla però devo spostare i pezzi Eventualmente L'abbiamo già fatta qui E' una merda La Mitsubishi? Ah no Mi ha fatto confondere Siccome avevo il visuale cofano Pensavo che avessi messo la Mitsubishi Quando ho scelto veicolo preferito Di questa zona Io ho una clip bellissima Dove c'è un'altra che mi spona davanti Non so se te la ricordi Forse venendo qua te la ricorderai Sei sicuro che ricordi Ricordati di ricordare Altrimenti non ricorderai più Quando vuoi Se seguiamo sta corsia tecnica Ti ho persa una certa Quindi è da 634 Assoluto Bello sto traffico qua Di addio Almost Ok quando vuoi 3 2 1 Che partenza di merda che ho fatto Già Ho fatto una partenza pessima E mi sono schiantato malissimo Raggiungi L'obiettivo del S- S- I want to learn Japanese too I'm filling entire note for pages with the kachi and the bush Also You knew I'll finish Oh I think you Oh living Japanese in kachi? Wow that's impressive I still don't know whether you want to learn Japanese too Which is kachi Because there are so many Ok Questo qua che cazzo deve fare? Oh Scusa 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 Ok Ok Ah ah Vabbè ci prendiamo pure questo qua dietro Ma sti kachi C'è C'è Mille passi A trenti più denomini La E E Oh Nenchi kumutteo Arigato Nenchi kumutti Arigato Arigato No No Mi ha perso un trasco davanti al Mi ha fatto Mi ha fatto responare qui Bellissimo Con sto stronzo Senti Mo me la concedi tu la scia Bastardo Lo sto spingendo Aspetta Mo lo spingo fuori dal raggio Quasi Vai vai pi' indietro Vai pi' indietro Vai pi' indietro Bastardo Vai pi' indietro Senti io ti faccio una finta E vaffanculo Guarda Sono otto il cazzo Vai mona Stronzo Bello come ci cascano sempre Comunque Le allodo le proprie Vabbè Tempo che si posiziona Vai 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 Ti prego contami quel 700 Contami quel 700 perché Cazzo non l'ha contato 707 ho visto Catroia No ma fa cagare il punto Questa non è la prima volta che A me ci schianta addosso A fortissima rotta il cazzo Mi ha evitato Anche se non mi ha evitato Piede questo stronzo Ma ancora qui a rompere Sì No ormai l'ha capito Quasi quasi ora è rollo Lo so per colpa di uno stronzo Senti io gli voglio far perdere la pazienza stando vicino a lui così capisce che non può Che non può mettersi a rompere il cazzo Oh ha messo pausa forse la volta buona vediamo se Ok gli sto così Che cosa ha fatto? Qua si era per trollare era? Vai 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 più indietro Deficiente Vabbè dai 3 2 1 No 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 non ti fidi lui Infatti Mi ha messo fuori Per spingermi fuori dal raggio lo sta a fa Non l'ha capito che io ho più cervello di lui Non l'ha capito proprio Vabbè vuole giocare così Aspetta aspetta No No Ne faccio vedere io Deficie Ah ha messo pausa però è fuori dal raggio mi sa Vediamo Ok si è fuori dal raggio dovrebbe sparire Ti prego Vai vai in Mona Mentre che ci sei Yes Yes Che bello vincere così Ok Mo siamo apposta Ci godo Nella vita Abbiamo perso il tempo Ma me ne sbatto Sono pronto quando vuoi Yeah Vedo Vedo la morte là davanti Tu be honest Però Vediamo Ho visto se è 90 Però mi sa che non me lo conta Perché mi sono schiantato E di fatto Non capisci Cioè non c'è modo di evitare Non c'è modo di evitare sta cosa Cioè Forse devo fare una frenatona col freno a mano Fai L1 R1 al massimo Ok no Ok Comunque si dopo proverò a fare sta cosa Ok quando vuoi No mi ha intercettato un'auto Mi ha intercettato un'auto Malissimo Guarda al massimo Al massimo vuoi provare tu Cioè non Qua C'è troppo traffico E mi sta urtando il sistema nervoso centrale Proprio Specificamente quello centrale Lo so Lo so E perché C'è il rendering di merda Ok Oh ero senza turbo Fuck Beh ora che sono respawnato Me la date il cubo Sarebbe tanto male perché il traffico mi ha rotto il cazzo E sono riapparso esattamente dove ero prima Understandable Non lo so se conviene Cioè Se conviene spostarsi Perché ogni volta sto traffico rompe il cazzo It's ok È arrivato quell'altro Quando vuoi Nooo Velocità insufficiente mi dice Vaffanculo Velocità insufficiente Se non mi mettessi lato davanti Lo vedresti che cazzo di velocità ci sarebbe Vaffanculo Che schio Io speravo di non rivedere più questo posto sul summit Invece Hanno deciso che era Giusto Meme 1 Odio ha intercettato male con l'ampione Wow Ok Non devo girare eccessivamente Ho capito questo Minchia quel 707 era qualcosa di spettacolare Ah pensarci non mi aiuterà a cercare Oh resettami la posizione Quarto Sì 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 No, cos'ho colpito? Per caso ti è laggato il gioco quando hai tagliato il coso? Ti si è microfrizzato? E allora c'era un traffico lì? No, fuori dal... Fuori dal cazzo Oh, oh, l'aspetta. Andai, tu sei o che? Hahaha Araiato! Rammont... Ah, ora... Iiii... Iiii... Uri... Iiii... Io atta, atteta o ii... Iiii... Ai... usii... Rammont... 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 Hahaha Ariatou! Ehm... Rammont... 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 Amai David Wright a good point? Non gira, oh aspetta, devo, devo, sì, sì, però voglio cambiare la mia aerodinamica perché non mi sta a convincere, metterò più due per adesso, vediamo. Piccami arigato, c'è un disturbatore mi sa dietro che, spero se ne sia andato, meglio con questa aerodinamica mo gira troppo però, boh. Tre, muoviti a passare, non ti fermare in mezzo al cazzo però, donna di Dio, si è venuto a piazzare questo, oh, chiudi la strada qua, bravo, così non passano gli altri. Oh, è stato con un tempismo incredibile, comunque, quando voglio, quando voglio, eh, tre, due, uno, go. Ah, la perdo tro, ok, devo rimettere l'aerodinamica, giusto, fuck, fuck my life, come diceva qualcuno. Eh, la dinamica meno, ma come più, oh, sono già qui, oh, lol, non so se ci sei pure tu, va bene. 3, 2, 1, go. Ah, non, non. Wow, 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 wow. Cosa? Si è piazzato tipo davanti a me? Ci siamo, ci siamo memati. Ok, sono sempre qui Senza il turbo carico Per qualche ragione Quindi Vuoi provare uguale? Oh no Se faccio così si carica più velocemente Tipo No Una volta funzionava questo trucco Che caso 90% 95% Ok 3 2 1 Go Ah la morte La doppia morte La tripla morte Ok Raggiungi l'obiettivo Sì ma è incredibile Uno dovrebbe avere il tempismo di secondo me frenare Dopo Dopo che hai tagliato Perché poi la con Ma che merda totale Aspetta che cazzo sto a fare Ok Vabbè Sì l'osso la prende levemente dopo Perché è stronzo Ti muovi Ok 3 Antecchiesi 3 2 1 Ah Così anticipo No Furgone di merda Sta spammando furgoni adesso È incredibile Ma guarda Guarda che bordello Perché sta a fa così Quello messo lì Che sono sicuro Non perai il cazzo Senti Passeremo attraverso quel gap Non me ne frega Invece Eppure Ma vai mona Leve te Cosa cazzo Su Madonna di dio Vabbè Forse è accettabile Se non appare Altra 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 di coglioni Dietro Pazzesco Non ho parole Madonna Con la rabbia Con la rabbia Proprio La rabbia Che è esaurita Ok 3 2 1 Go Cosa Cosa La mumia Del cazzo Ok 3 2 1 Go Ti ha resettato Ma l'altro L'altro lato L'altro lato Come Già è un rettino Strettissimo Merda Merda Non è semplice Quello è Un modo deve esserci Per non farlo triggerare Però Sì Sì Sto gioco Si calcolare traiettorie Secondo me 3 2 1 Go Te deve esserci Al cazzo Te Te Deve 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 che chiaramente quando li colpisci si fermano di solito però oggi oggi ha deciso di no ho messo qualcuno davanti alla corsia vè ho colpito quel mona dio cristo no via di qua via di ah no la sto spingendo verso la corsia adesso ah andiamo vai via tu same per la morte 321 go con la in mano pure ma va il fanculo allora ma è certo perché era fatti spawner davanti a me prima certo è giusto no che eccesso pazzesco non ho parole o li mette agli incroci o li mette alla fine cioè 321 go indovina che non aveva il protox mannaggia la troia mannaggia la troia mannaggia tutto non c'è traffico mo vero non c'è traffico mo vero no c'è ok mi sa che si è resettato il traffico il che vuol dire che o ci butta qualche random dentro oppure abbiamo poco tempo non c'è stato spugnato davanti all'occhio eh no e infatti era spugnato davanti agli occhi ma che vuoi te con sta gonna qua cammina te levi? mi fa fastidio sto civile così ok 3 2 1 oh ma perchè deve fammi le spawner quel muretto è la cosa più bastarda che schifo poco fa ho visto un 707 ho registrato gli internativi qui 0 però quando ho fatto solo ho fatto 6 e 30 di 3 2 1 go ok ok f ok 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 è evitato l'impatto per 0,1 secondi le mao c'è la pioggia tolta? hell yeah let's go ok ok ci siamo via 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 e se l'hai detto ormai 626.2 mi ha contato con tutto come dovrei farlo ciao hai fatto 650 tu già c'è qualcuno c'è qualcuno con una libreria della monster che è appena spawnata da noi ma levatevi dai coglioni 3 aspetta vedo una valanga di vabbè faremo lo stesso 3 2 1 go questo è il primo questo è il primo che muoia a rompere di uno stronzo ok questo è il primo questo è il primo che muoia a rompere di uno stronzo si perché è un imbecille che ti aspetti mo c'è l'invasione guarda quanta gente vabbè tanto non hanno drag race vabbè comunque 3 2 1 ok shari gli shari della situazione sono arrivati siamo un po' troppo avanti però sti cazzi allora 3 2 1 ma io odio tutto nella vita odio è migliorato di un chilometro le mao se avete tentato di lasciarla a 120.000 sto cazzini di velocità è vaffanculo perché non è possibile troppi problemi ora senza turbo io fuck i guess che lo farò io anche se non ho turbo 540 col cazzo che c'è lì morto male il fatto che resette il turbo solo quando vuole lui è un po' fastidioso laggiù wow no fuori dal raggio un cazzo per favore allora era un civile quello che ha colpito 3 2 1 go oh il tizio è così e allora facciamo una finta ole nel parcheggio ammazza ti disgraziato maledetta ma tra l'altro a me è un distretto di polizia questo qua tra l'altro come ne sa il corso si comunque ti dico se lui viene a rompere ancora il cazzo cambio lobby io perché qua mi sa che il range del traffico è una merda si esatto 3 2 aspetta aspetta si è riscata la gomma la puttana cambiamo attività cambiamo attività ma rotti i coglioni questo a quanto ci mette sto coso qua 2500 che poi è top 3000 cioè quasi quasi me lo tengo così l'unica cosa che voglio ignorare è l'Atlantic quindi riprendi i perk dall'eclipse che tanto non la voglio rifare no purtroppo vabbè ti dà il tempo di resettarlo no perché ho un set singolo che posso spostare al momento me ne so accorto oggi no no in realtà non lo so quanti set che posso spostare fammi te la controllare ehm forse forse vabbè l'interception è fisso la DeLorean non ce l'ha non ce nemmeno questa Mazda RX8 no ma tanto non ci torna a fare stunt mi sta sul cazzo stunt non ce non ci torna a fare Non ho? eh hai fatto rapido puoi inserire le meme invito inviata laggiù come vuoi boomer rio? Benvenuto nella sofferenza ti dico Dovevi dire le mie fiamme rosse e gialle che non sono rosse e gialle Eh? Ma che? C'è... Questo me lo conta come muro, mi ha tolto tutta la velocità ma è incastrato qui Vabbè io mi fermo, cazzo devo fare Ah, coglione I know Si dovrebbe, hai detto bene ma... Se non... se non è d'accordo le mao proprio Ah scusa, purtroppo il copyright non perdona Esatto Perché tu volevi belle auto? Tu ti aspettavi belle auto? Belle auto ti dico C'è... 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 Che successo? Fantastico Se trovi qualcosa di fattibile dirlo anche a me perché veramente non... Non ho idea io di come... Di come gestire il tutto No Tu vorresti, tu vorresti Sì, non è che lui è... Eh... Non è che lui è... Vuoi vedere quanto hai fatto oppure... No Eh, quindi riavvio Quello sto a dire Sì, non è che lui è... this to posto, eiii stavamo messi bene oggi cosa? ah dovevi? ok once a napona time in America oh scusa la scia mi ha fatto perdere comunque ah dio che schifo scusa stavo per la definizione del male proprio vero? si quando scendi dalla terza alla seconda inizia a girare come se fosse la cosa più sterzosa del mondo oh ok 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 non ci vuoi essere pensavi di essere eh vabbè cazzo ti devo dire guarda va a cagare va schifo ciao 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 Non si sente nulla Ma che mi chiamo un po' buffo? Un bel move Bello, io torno tra un secondo Spero non mi chicca il coso, se no mi ammazzo Spero non mi chicca il coso, grazie Grazie Ehm... 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 Huh! Pega Me died or miss? Huh! Just pika already died? I'm kidding Hello! Hi! Thank you so much for coming! ��배배배배배 Ayato! Ehm... Ahahahahahahahahahahahahahahahahah! Ahata ahata! Revenge! Ash! Revenge! Otaku! Revenge! Odyssey! Oh my goodness! You want money for bingami? Arigato for money! Revenge! D for google! Arigato! Money for bingami! Arigato! Dario! Ehm... Ehm... Eh... Revenge! Sen yuki! Not sure what's going on, but just feeling happy and... Eh... De no generous today! Arigato! Thank you! Revenge! Raivis! Best pick-up! Arigato! Ehm... Revenge! Kuri no hollo! What? What? That's not super chat! Hahaha! Ehm... 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 Revenge! Wow, man! What? What texture pack is this? I love it! Oh, thank you so much! Thank you so much! Arigato! Let's go down! The texture pack that I use in the shader that I use is on the description, so you can look from there. Uh, for the loop rudu place. I wanted to put the link on it, but when you click it, there's so many ads coming out. Especially the 801, so I thought that maybe not good ideas to do it, but when you're searching for the rudu place, download shaders like that, it'll come in and you can download it from there. So yeah! Hope you guys will enjoy it! Arigato! Thank you so much! Arigato! Thank you so much! Arigato! 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 100 stonks per caso? no anche io mi pare poco ma come si non ma 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 la morte ah oh ok no no madonna mia si era incastrato il cavo delle cuffie nelle vette non c'ho parole oggi cazzo di giornata bastarda ma ma io sta curva la faccio di spondo ormai me so deciso non è possibile frenare non non conviene drista troppo io vorrei solo che accelerasse come come il cristo comanda zero forse dovrei forse dovrei ridurlo di due tipo e allora facciamo una due dopo non 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 ci riesco poco fa andava accettabile mo zero proprio ma 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 come come se ne non sto riuscendo a fare un cazzo mi sta a triggerare Non so? E' una rottura di cazzo. Oh, mi hai raggiunto. Mi hai raggiunto come tempo. Quindi hai 113.000. Sì, io voglio provare con cosola, con una modifica al cambio, parlando di modifiche. Ma io provo a due, voglio capire. Voglio capire che cribbio fa con cosa così. Hi, grandma. Here's my mother. Thanks, grandkid. Now I can get more tipsy for me. Arigato. Thanks, grandkid. Lol. Arigato, arigato. Thank you, thank you. Ah, so Finkimi is the monster of the culture, too. For the all you sing it. Io direi che tutta l'auto in generale deve bruciare, perchè non è possibile. Oh, non mi hai... Vabbè che io sto a 113.008, per cui... Avvolto! Avvolto lui! Porca dio. Charger Manuel Vapa! Cambio meno due. Sì, sì, sì. non è vero non è vero non è vero provvedo RIVENCHE STORCHARGE RIVENCHE GIMITTIAMATEMO RIVENCHE GAMADARI RIVENCHE MEDICI MEDICI RIVENCHE MEDICI RIVENCHE 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 воX RAZT агliss MIGRES hm 41 42 42 42 42 42 43 45 quitting 43 44 Cia Oddio però Mo K a 3,70 Ok che non ci sono punti in cui Vesta a 3,70 però Oh ok ma sta girando Sta girando Ovviamente è meglio È un'impressione mia Sì ok no stavo scherzando Stavo scherzando Non mi è piaciuto Quindi per start Ok Bellissimo Ah ok ho capito che intendi allora potrebbe essere che come dici tu Non è un ragionamento errato Tu be' onesto Dio perché non drifta più come prima mo? Per start Un minimo drifta Grazie a tutti Grazie a tutti No Non è un problema Stardine Questo è uno Stardine Un po' Giusto Arigato Aisumeroyokushi Arigato 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 Che soli Ce l'ho vista la prima volta E ho fatto un piccolo confinino No O L'ho vista Non è un problema Le apparenze ingannano, come diceva il titolo di quell'altro evento di merda. Tra poco io imprego. No, ma è stato incapace proprio. Possibile che ne facciate mai uno, giusto? No, ma è stato fatto. Calma questa parte è la quarta marcia subito. La mia è di lui. Con una nuova. Guardare il titolo di credito. Guardare il caso. Guardare il titolo di credito. Guardare il titolo di credito. Guardare il titolo di credito. Dici? Probabilmente Accord l'avrò usata con il manuale allora, è un buon ragionamento il tuo. Mi hanno migliorato un cazzo. Vediamo se riesco a concludere qualcosa. Non lo sai. Vedete di spararmi? Le maus. Le maus. Non l'hai lasciato indietro, poi boh. Ma anche l'in... sì, quello pure, però anche le altre robe... alcune robe sono... Le maus di testa, le lampioni, i maverdi... C'è un po' di sì, 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 c'è un po' di sì. Già. Gira la ruota. Gira la ruota, ye ye, madonna de dio. Ma se ero... Ero distante io. No, è la scia mia che mi sta avvantaggiando. Avvantaggiare, insomma. Oh! Dio! Se acceleri troppo presto non gira, se acceleri troppo tardi ti fa un driftone che ti fa cappottare il culo di novanta. Come cazzo funziona sta cosa? Ero distante. Non c'è, non c'è, non c'è. C'è un po' di le gruva. Certe groove le prendi extra-large dove vedi? Però posso capire. Non ho un'altra scelta! Posso capire. Che la cosa non gira, non c'è, sta cosa non gira. Che questa cosa non posso prendere la macchina maniera. Letta po' di volare! Bello quel cartellone, mi piace. Certo. la prenderà meglio di questa decisamente conta che io ho freno prima quindi calcolati sta roba freno per no no non conviene non conviene che sto davanti perché ho un metodo totalmente diverso non è l'ultima curma questa invece si devo muovermi 3 0 3 0 6 e 96 116.3 soffriamo ancora che cazzo ne so non è l'ultima Wow, guarda questa botta di busto qua Oh, bomba Madonna Oh no, scusa Ma in qualche modo sta No, sta auto soffre e fa soffrire Un po' come quando il fumo danneggia te e chi ti sta intorno È uguale, sta auto danneggia te e chi ti sta intorno Questa è che in qualche modo deve soppostare anche di qui Sì, perché mo' è antica Per gli standard del racing Madonna di Dio Ecco, hai fatto Abbiamo fatto Eh, quel muretto lì A me poco fa ha ucciso due run A sto giro mi ha lasciato a 10 all'ora Quindi sto cercando di non No, ma penso che Vabbè Mo' non gira più, è partita a sterza a tutto Ok Non appena molli il freno Mi sa che conviene Tipo fare dei tap di freno E poi sterzare Che Oddio Forse Forse monto something Sai Cioè Così sto sterzando meglio Se faccio dei tap di freno Un po' come se cerchi di forzargli la derapata Vabbè rimane comunque un cesso Per cui Che lo scudo Oh no Oh no Sta a prendere malissimo questa curva E le mani Le mani No, però non si può fare Che è un pazzato No, io penso che uno Ci esplode i neuroni Prima che trovi una mod buona Per questa cosa Non è possibile St'auto Oddio Tu che bustai per st'auto A me è venuta una realizzazione spettacolare Sto momento Dobbiamo mettere quello Per le frenate Qua secondo me facciamo un limited 306 No Ho migliorato Tipo un secondino Credo 8 decimi Fammi provare con ingegno Siamo No 17.4 Sì Il punto dove minchia L'avrò messo ingegnoso Che non mi ricordo Allora A me non dispiace Il setup attuale Penso che lo lascerò così Se però Ho ragione a pensare Che quel set lì Può dare Una marcia in più Tra virgolette A sto cesso Allora Siamo a posto Che proprio Veramente Ha una mancanza Dal punto di vista Fisico Stato Dunque Dove minchia Può essere Sulla Lanza Revoluzione No Sulla 911 No Sulla Golf No Sulla Mercedes Perché sulla SLS Ho sto set Oddio Forse ci hanno fatto Fanno ancora con quella Non mi ricordo Ok Torniamo alla Merda Di Bugatti Non c'è azzecca Un cazzo Sta Bugatti Lo stesso Con sto gioco Io direi In generale Ma Oddio Devo andare peggio In effetti Sai su Su mafia C'è una missione Dovevi fare una gara Con un'altra A due cavalli Ed è un memile Ci sei? Ci faccio Sei connecio? Io porro Comunque Quella è facile Quella è facile Anche in sole Una cazzata Io appena Appena abbiamo terminato qua Mi scappo Cioè Devo mettermi a fare cose al pc E poi ci vediamo Su Discord Evidentemente oggi va così E non posso Però se mi libero Penso che lo farò Un direttore Dipende Quanto devono asfaltarmi I coglioni Ecco Ma chi? Madonna Sì Ma su Ma dai Oh ma c'è Jens Oh Cos'è questo gancio qua? Cos'è questo gancio qua? Sono essi un gancio Ma ho cercato qualcuno? Beh già mezzo Mezzo turbo carico Le mao A giudicare dal fatto che ti sto a superare Non credo Però Adagiata Adagiata No Mi farò questo Andavo presso il culo Scusa Di nuovo il muretto di merda Bellissimo Hai givappato? non posso darti torto e invece ti dico che devo riavviare perchè il muretto di merda mi ha rotto il cazzo è come se mi avessi stirata in maniera tattica il gioco deve essere d'accordo con la tua affermazione però se no ci attacchiamo no è la tua che vedo la gara un casino ma fuga grazie a tutti Ma porca la madonna Un albero di merda l'ho sfiorato Ne lo so perché l'ho sfiorato di un pixel E certamente Sette secondi Sette secondi Comunque questo era il muretto che ti è fregato ne so Ok sta perdendo il culo in maniera non Prima stavo da venire un po' di tempo ma lo sta perdendo Sto a fa cagare Non lo so più Non so se sta andando bene Se mi recuperi tanto meglio Prima mi raggiungi Prima finino Io ero morto da un lato E ad agio ad agio mi sentivo memato No no Mi aveva il pazzo di merda Ancora Ed è andata ovviamente due volte la madra Da 3 a 2 e da 2 a 3 Allora potrei evitare se avessi fatto l'altra cosa Ma non potrei Quindi non ho fatto nulla Non ho migliorato per vedere il problema Ok Io avevo potuto fare 3 a 0 2 perchè ho perso 7 secondi laggiù Voglio Voglio morire come diceva Quello del Leggere le gentile Io me la metto con la mascherina del covid Io voglio morire La mascherina del covid Esatto Non esiste più 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 Già come ti dicevo prima Mi dicevo prima Devi lanciarti Non esiste più Non esiste più Peccato che gli altri muretchi non funzionino così Altrimenti la farei tutta di sponda a staggare sti cazzi Perchè E staggare sarebbe più Non esiste più Ok Ah l'ho spizzicato L'ho spizzicato L'ho spizzicato C'era anche Oddio credo fosse una cosa Tipo della zona Tipo della zona Invece era universale Spizzico Un fast food Era Un po' come Burger King Oddio no Cos'è la prevità a me? Viedo scusi Sì Che ci fai il checkpoint messo lì? What? Ma che? Ma non siamo passati da là Che è successo? What? Non lo so cosa ho toccato Ma mi ha fatto il solito facetto di 90 gradi a random che mi ha fatto andare a sbattere contro una cazzo di casa di merda Allora Senti Vai sotto парa 3-2-4 3-3-3-3-3-3-4-3-2-3-3 kg 3-3-4-3-3-3-2-3-3-4-3-4-3-3-4-3-3-3-3-4-4-3-3-5-4-3-2-4-4-2-5-3-4-1-5-3-2-5-4-5-5-5-5-5-5 B beast-3-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-6-0,5-5-5-8-5-6-5-5-5-5-6-10-6-5-8-8-6-5-3-5-6-0-6-0 No, devo fare altre cose, non mi... Non mi conto che non mi rona una voice prima delle 21, quindi... Yes. C'hai due ore di tempo per... No, ho frenato troppo lì, cazzo! Merda! Ho peggiorato, come cazzo è possibile? Senti, non mi sono rotti i coglioni, basta. Non me ne freddo, è proprio il rage quitto, tanto tu non stai migliorando, no? Vabbè, ormai è contato come è finito, quindi... Addio! Studi!